Lei a settembre del 2021 arriva a Sky Calcio Club e molti criticano la sua presenza, di lei scrive una impacciata, fa interventi fuori tema. Interviene anche Paola Ferrari, che teoricamente è una sua amica, almeno quantomeno non è nemica. Hai una mia amica? Non lo so, è una amica Paola Ferrari? No, andiamo a bere il caffè insieme. Chiariamolo, non sia da mica. No, no, per un... Comunque, la Ferrari dice, la funzione di Melissa è solo quella di dare sostanza a uno stereotipo dei più triti. Questa è un'amica, scusa. Eh, infatti era una domanda. Una rosicona, non un'amica, non ho capito. Anche tutti quei risolini quando si è tolta la giacca è una scena vecchia, superata a Vilente. A difesa di Melissa va detto che a differenza di qualcun'altra lei non si finge giornalista. Ah, questa è però più rosicona che amica, scusa. Cioè, no. Ma perché cosa c'è di male togliere una giacca? Togliere la professionalità da una donna? No. Ah, ecco.